Questa è la mitica Sorrento. Guardate qua. Miracolo della natura. Guarda che bello. C'è un panorama mozzafiato. Questo è il porto di Sorrento. Dalle montagne al mare. E di fronte c'è capri. Non si vede tanto. Si vede un'ombra. Si vede una leggera ombra. Guarda qua sotto ci fa venire le vertigini. Strapiombo. Stiamo andando al mare. Che bello. Che panorama. Wow. Montagne e mare. Lucù in Persia. È un bambino wez słu Exactly. Il cuore. In una portaUPon. È un grado. Saludino per i nostri follower e i 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 Qua si sale sempre mamma mia Mi raccomando di mettervi delle scarpe Comode Wow Sorrienti E qui? Che carino Che meraviglia Che meraviglia Riprese fatte da un telefonino Già sono spettacolari Qui dove il mare lucica E tira forte e vento Dai Max Andiamo Guido io Andiamo a cessare l'ora per vedere l'anima Grazie a tutti dai uno o due Che fai! Che fai! Che fai! Questo è il centro di Sorrento, bellissima, è super super affollata. Poveri cavallucci. Io odio vedere cavalli così. Tante belle scarte. A me piacciono gli stivaletti con le borchie. Tipo questi. Queste sono tutte le foto di personaggi famosi. C'è perfino il Papa. C'è perfino un Rocco di Fredi. Un Rocco di Fredi. Un Rocco di Fredi. Un Rocco di Fredi. Ed è così. C'è anche lui. C'è venuta la camerata in emozione e anche lui. Oddio! C'è anche il mitico. Mente contone. E quanti gusti? Qua è difficilissimo da scegliere. Antonio Cafiero. Oh, oh, oh. Ah, poch, non c'è il gelato. Sì. 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 L'olio di cocco. È mancabile l'olio di cocco? No, è l'olio Johnson. No. Che schifo l'olio Johnson. Va de rego. Sì. 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 Buoni. Ci sapete come sono. Ne assaggio. Arriva a mare, guardate, lascia il mare. Bellissimo. Questo si chiama San Rafael. Gnocchi alla Sorrentina, mi ci tuffo. Buoni, buoni. Buonissimi. Buon appetito. E sale, sale, salirà. Mamma mia. Ciao. Ma questa salita è ancora più rivida oggi. Sono comprato queste scatte. La porcione a Sorrento. Molto famosa. Fatti a mano. Guardate che bello questo pacchettino. Molto ruota. Io ho preso queste qua, che sono semplici. Sono semplici, però troppo bellissime, veramente. Fatte a mano. Cioè, me l'ha fatte davanti a me perché non c'era il mio numero. Quindi me l'ha fatta al momento. Adesso stiamo tornando a casa, però c'è il trastico. Secondo me arriveremo tipo per le quattro, cinque domani mattina. Giusto in tempo poi per farci la doccia andare al lavoro. Sì. 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 Sì.